Prima di tutto ci troviamo in uno storico ristorante e pizzeria, pensate dal 1964 in centro storico a Padova e siamo ospiti del Mare Chiaro. Qui accanto a me c'è la signora Mariangela Dell'Osa e grazie a Mariangela cercheremo di fare un piccolo focus su questo periodo, un periodo che dovrebbe essere di grande fermento, come dicevate in studio, grazie alle varie prenotazioni sia delle famiglie padovane, ma non solo, ma soprattutto anche delle aziende che vengono a festeggiare con i propri dipendenti il Santo Natale. Cerchiamo di capire quindi, Mariangela, com'è la situazione per quanto concerne le prenotazioni. Certo. Allora, dobbiamo dire che comunque il lavoro non ci manca, siamo felici, siamo contenti, lavoriamo bene, anche perché usciamo da due anni molto molto difficili. Anche l'anno scorso, in verità, sotto Natale abbiamo avuto comunque molte richieste, tuttavia quest'anno c'è stato veramente un boom, un'esplosione, grazie anche comunque a quello che è stato fatto a livello comunale, grazie anche alle mostre, alle varie mostre. Insomma, Padova è una grande città in fermento. Noi, essendo vicini comunque ai punti più importanti, insomma, di Padova strategici, abbiamo avuto comunque anche molti turisti. E su questo assolutamente dobbiamo dire che la cosa... Mariangela, io voglio anche ricordare che voi fate parte, quindi lei sta parlando, per App, quindi l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova. vorrei appunto capire, adesso le aziende stanno prenotando, avete un periodo, come dicevamo, florido, insomma, importante? Certo, sì. Indubbiamente questo sì, anche perché comunque sono cene di fine d'anno e quindi ci sono più richieste, anche di questo tipo, diciamo così, di clientela. Questo indubbiamente, certamente. Noi non possiamo però dimenticare le difficoltà che voi commercianti, insomma, voi ristoratori state vivendo ormai da tempo e parliamo quindi dei, purtroppo, tristi rincari. Luce, gas, io nel mio piccolo e mi reputo anche fortunato, ho, pensate, ricevuto ieri 85 euro e passa di bollette solo del gas. Immagino che per un esercizio come il vostro, un ristorante, un locale come il vostro sia 100 volte più grande, purtroppo. Infatti, questa è la nota dolente, anche perché se comunque le casse non piangono, cioè gli introiti, però poi alla fine della sera noi dobbiamo fare i conti delle nostre uscite, perché non sono solamente le spese fisse, quindi luce, acqua e gas, che sono comunque decisamente rincarati. Di quanto, possiamo dirlo? Quanto incidono? Guarda, incidono decisamente moltissimo, faccio un rapporto così semplicemente, la bolletta del mese precedente era circa 3.000 euro, parliamo solo di bolletta, non è che parliamo di tutto l'anno, anche perché, insomma, il nostro locale è abbastanza grande. Abbiamo avuto adesso una diminuzione, ma grazie agli aiuti che ci sono stati dati dallo Stato e quindi abbiamo avuto questa bolletta che era di 1.000 euro. Tuttavia, cosa in questo punto ci aspetterà il 2023? Non lo sappiamo. Veramente è una grandissima incognita, quindi anche per noi è un problema molto grande rispetto a cosa dobbiamo mettere in campo, sia per quanto riguarda, diciamo, anche eventuali investimenti che dovremmo comunque di fatto fare. Parlavate anche appunto delle difficoltà legate alle materie prime, quindi le varie consegne che dovete ricevere per lavorare. Come dicevo appunto, se abbiamo appunto questo, diciamo così, momento di grande euforia per quanto riguarda, ripeto, l'afflusso della clientela, ma il problema è che abbiamo avuto non solo, ecco come dicevo, le spese generali che rimangono di fatto, e cioè si sono peraltro alzate. Non ci dimentichiamo che abbiamo anche le tasse, abbiamo l'Atari, recentemente abbiamo pagato l'Atari, abbiamo pagato l'Imu e cose di questo genere. Quelle ci sono e purtroppo nessuno ce le può togliere. Le posso chiedere quanto rimane allora la fin fine, cioè del totalone di cui stiamo parlando, da quello che sento sembra che rimane poco e nulla? Un grande punto di domanda, mi sembra proprio veramente di girare, 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 girare e dopodiché alla fine cosa resterà? Cosa ci sarà di noi? Perché questa è una verità, cioè non è che una bugia, ma penso che da questo punto di vista chiunque possa giungere alla mia conclusione, non solo il ristoratore, ma anche altri commercianti, ma anche le semplici famiglie, insomma, è un momento di grande difficoltà. E di incertezza, diceva, legata al 2023. Allora, se non ci sono domande dallo studio, abbiamo capito che, insomma, i costi energetici continuano a incidere notevolmente sui nostri esercenti, sui nostri ristoratori e appunto qualcosina si muove però grazie alla finanziaria, allo studio, insomma, 2023. Se non ci sono domande, io ringrazio la signora Mariangela Dell'Osa, ringrazio il Mare Chiaro Ristorante Pizzeria dal 1964 in via Manina qui in centro a Padova per l'ospitalità e cedo a voi naturalmente la linea.